Io ho pubblicato sulla mia pagina un post, una fotografia di un assembramento di giovani, domenica e pomeriggio, che mi è stato girato, di circa 30 ragazzi, molti dei quali senza mascherine, vicinissime, senza rispetto delle distanze. Queste sono cose assolutamente intollerabili. Mi si chiede di aumentare i controlli. Abbiamo anche difficoltà su questo perché le forze di Polizia Urbana sono limitate, però ho sensibilizzato sia il comando dei carabinieri che della Polizia, della Guardia di Finanza e tutte le forze di Polizia locali e i controlli ci sono, però faremmo prima ad educare questi ragazzi a rispettare le regole piuttosto che invocare continuamente questi controlli che giustamente ci devono essere. Questi ragazzi devono capire che mancano di rispetto verso operatori sanitari, infermieri, medici, 118, che quotidianamente si spendono, a volte anche con spirito eroico di abnegazione per fronteggiare questa epidemia, nei confronti dei soggetti più deboli, degli anziani, di quelli che hanno delle patologie concomitanti e che quindi rischiano di morire.